Comandante Torrens, mi dica pure. Estradiamo un latitante. Non voglio spaventare i passeggeri. Voglio un volo tranquillo. Sono precipitati da qualche parte sull'isola di Colour. È governata da milizie separatiste. Il tempo scorre. Ogni minuto è importante. Aiutateci! Aspettate, tornate al diatro! Non sappiamo chi sono, indietro! Ascoltami bene. Questa è un'emergenza. Sono il comandante Brody Torrens. Questo tizio è forte. Devo andare a cercarli. Sono i miei passeggeri. Ne sono responsabile. Mi servirà il tuo aiuto. Perché sei finito in galera? Non è importante. Ma dicono che la redenzione puoi trovarla nei luoghi più insoliti. Se lo fai, probabilmente non vedrai più la tua famiglia. E le loro famiglie, invece? Ho una figlia. Ho tutte le intenzioni di tornare a casa. Ci attaccheranno con tutto quello che hanno. Ce ne andremo da quest'isola.